La Reliquie Electric Bungo è una reliquie che se fosse stata un pelino migliore avrebbe potuto essere senza problemi in cima alla lista delle reliquie più forti. La potrete ottenere sconfiggendo gli Psycho Billies all'Humbermine e nello specifico Billy, dei quattro Psycho Billies, gli altri non droppano nulla di specifico. E cosa fa? Beh, lo state vedendo. Quando sparate a un nemico avete un 20% di possibilità di trasmettere un fulmine a un nemico di fianco e questo fulmine fa il 25% di danno shock in più oltre a trasmettere il danno. È una reliquia buona ma purtroppo perde di forza comparata alla perla oppure a una Victory Rush eccetera. Se invece di avere un 20% avesse avuto un 50% di trasmettere il danno oppure un 100% sicuramente avrebbe potuto combattere diciamo ad armi pari con tutte le reliquie invece più famose e blasonate. Purtroppo non è così, però è comunque divertente da utilizzare ogni tanto specialmente in una build dove avete difficoltà a eliminare gruppi di nemici e avete tanto danno singolo. Su quella è assolutamente perfetta. Detto ciò invece guardate questa reliquia se volete qualcosa di un pochino più forte e in meta.